Sergio Rossetti, detto Pippo, 52 anni, Partito Democratico. Perché vi siete candidati alle elezioni regionali? Cinque anni fa mi hanno chiesto di candidarmi, Burlando mi ha chiesto di occuparmi di formazione, di scuola, di istruzione, di università, di bilancio. Sono stati cinque anni in cui ho imparato molto, ho dato quello che potevo. Abbiamo ancora programmi aperti da portare avanti nell'ambito dell'istruzione e della formazione. Credo che con la Paita potremo avere una squadra giusta per vincere nei prossimi cinque anni il campionato a cui la Liguria deve partecipare, sviluppo economico e welfare. La sua priorità per la Liguria? Il lavoro, il lavoro inteso come promozione delle persone, il lavoro da creare, da sviluppare con le giovani imprese, con nuove imprese, con start-up, con incubatori e il lavoro da difendere. Il lavoro dell'industria, il lavoro del commercio, il lavoro del turismo, il lavoro del porto e il lavoro delle piccole imprese della Liguria. La sua priorità per le micro imprese? Abbiamo la possibilità di ridurre alcune cose come l'IRAP per le nuove imprese che nascono, il sostegno alle associazioni di categoria perché le nuove imprese siano aiutate a non fare investimenti sbagliati, la possibilità di utilizzare il Fondo Sociale Europeo come abbiamo fatto, condividendo le scelte, penso ad esempio al Bando degli Antichi Mestieri, una platea di 6.000 aziende artigiane e quindi lavorare insieme per utilizzare bene i fondi che servono a sviluppare le competenze per chi cerca lavoro e vuole entrare in questa parte di mercato e a chi già opera nella formazione continua. Il suo primo impegno se sarà eletto? Prendere il corpo legislativo della regione, usare il bianchetto e l'evidenziatore e togliere con leggi quadro tutto ciò che non aiuta le imprese, le aziende, chi vuole lavorare, gli artigiani, sburocratizzare, semplificare le procedure, aiutare le aziende a trovare i finanziamenti del FESR e dell'FSE e quindi modificare le leggi perché la regione fondamentalmente è un organo legislativo. Lanci un tweet Senza gli artigiani questo paese andrebbe ancora peggio Un hashtag Io sto con Rossetti